buongiorno oggi andiamo a provare le fustelle che ho scelto sul sito cocorosa allora ho già preparato la sidekick che è questa qui e come vedete l'apertura è molto più piccola rispetto a quella della classica big shot andiamo a provare questa fustella ok questo è quello che ho ottenuto utilizzando la prima fustella ho piegato lungo la linea tratteggiata vedete questa linea qui ho piegato a metà il mio cartoncino e questa è la targhetta ottenuta al centro possiamo incollare un altro cartoncino ovviamente di colore diverso e anche leggermente più fino e poi in base all'utilizzo che ne vogliamo fare andare a scrivere un pensiero una dedica oppure possiamo incollare anche il nostro logo e unirlo alle nostre creazioni adesso andiamo a provare questa fustella con questa decorazione e questo è il risultato dell'altra fustella anche qui vado a piegare lungo la linea tratteggiata e anche questa targhetta è pronta per essere utilizzata qui metterò sempre un cartoncino all'interno diverso di un altro colore e e poi possiamo utilizzarlo anche come chiudi pacco magari qui sopra al centro possiamo mettere l'adesivo con il nostro logo e comunque anche questa è utilissima per rifinire il pacchettino delle nostre creazioni bene con queste due fustelle il risultato è ottimo andiamo avanti e andiamo a trovare le altre allora vi faccio vedere una cosa allora volevo provare le farfalle solo che questa farfalla purtroppo non passa attraverso l'apertura quindi questa la devo mettere da parte per quando avrò la big shot allora adesso facciamo la farfalla la voglio fare azzurra posiziono l'altro pad e andiamo a scoprire anche la farfalla il taglio è venuto perfetto ecco qua questa è la farfalla bellissima e volevo farvela vedere su questa busta da lettere ne farò un'altra una qui e una qui perché mi serve da consegnare un bigliettino e volevo aggiungerci appunto o una o due farfalline adesso non lo so vediamo comunque è venuta benissimo anche la farfalla allora ve la faccio vedere pure fatta in gomma eva guardate quanto è bella anche questo aspettate che ve la faccio vedere su su sfondo bianco e anche questa è bellissima ok allora adesso vi faccio vedere questi ha guardate questa è troppo grossa vedete quindi sia questa che questa fustella le devo lasciare da parte proprio perché non riesco non posso utilizzarle qui passano questa misura questa misura e questa misura quindi andiamo a provare questa misura più grande e anche questo secondo me è una cosa piccolino anzi iniziamo da questa guardate ecco qui questo è quello che otteniamo questo si può sempre utilizzare per decorare i nostri lavori di scrapbooking ma questo è veramente utile adesso prendo prendo i miei orecchini lady jackie e comunque la parte interna si può usare per inserire le nostre creazioni quindi orecchini non troppo grandi e questa misura comunque è perfetta bene adesso andiamo a provare sia la misura più piccola che la misura che la misura più grande devo rifinire un pochino con le forbici perché non comincia a essere troppo larga questa misura e sporge un pochino dai lati del pad rimane leggermente fuori ai lati quindi questo pezzettino lo andrò a rifilare con le forbici mentre con il pezzo centrale lo possiamo sfruttare per le nostre creazioni io adesso li ho semplicemente appoggiati qui sopra però andrò a fare un forellino in alto e questo questo taglio va benissimo per le creazioni medie quindi anche qui veramente ottimo modo per sfruttare la parte centrale di questo taglio proviamo anche questo più piccolo eccolo qua vedete il taglio è venuto perfetto su questo tag possiamo benissimo mettere gli orecchini a bottoncino magari dei piccoli orecchini in acciaio e chaton swarovski oppure dei piccoli orecchini fatti con la tessitura di perline e anche questo lo possiamo sfruttare benissimo andiamo avanti con le altre fustelle allora ci rimane questa e poi ci rimangono queste due qui va piegato in avanti così qui va piegato nel centro perché dobbiamo far combaciare le due arette così 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 ah no ecco così perfetto quindi dobbiamo incollare il tutto e poi in questa solina possiamo agganciare bracciale una collanina in questo modo oppure possiamo utilizzarlo questo cartoncino facendo due fori qui o due fori qui mettiamo due piccoli orecchini e qui al centro il braccialetto quindi possiamo sfruttare in questo modo anche questo cartoncino e secondo me anche questo è utile bene ci rimangono le ultime due fustelle e queste servono per creare dei segnalibro allora andiamo a tagliare questa con le stelline ecco qui ma possiamo utilizzare sia solo questa parte come segnalibro quest'altra parte la facciamo di un altro colore no no pensavo si potessero usare uno sopra l'altro ma no perché si va a coprire forse così ma non mi piace vedete in questo modo ma non è veramente non è per niente bello potrebbe essere carino però non mi dice nulla così non ha senso così non ha poco senso però possiamo aggiungere la stellina azzurra che abbiamo tolto che si è tolta perché ovviamente qui c'è il taglio ma possiamo aggiungere su quest'altro pezzettino di cartoncino passiamo il tutto con la vinavil per bene lo facciamo un paio di volte sia davanti che dietro facciamo asciugare bene e poi possiamo utilizzarli benissimo come dei segnalibro questo è quello che ho realizzato con le fustelle scelte sul sito cocorosa come avete visto ce ne sono tantissime molto utili per chiudere i pacchetti nelle nostre creazioni per aggiungere delle scritte o dei ringraziamenti anche questi possono essere utilizzati benissimo oppure per esempio queste questi cartoncini possiamo utilizzarli per le nostre creazioni quindi per gli orecchini di media grandezza poi ovviamente con queste più grandi qui possiamo metterci orecchini più grandi e su questi addirittura su questo taglio ancora più grande possiamo mettere collanina e orecchini quindi veramente personalizzare tantissimo nostre creazioni perfetto io quindi con questo video vi saluto vi mando un mega bacione fustelloso e ci vediamo poi con gli altri video vi lascio tutti i link di riferimento nell'info box e ai prossimi video ciao